Buon pomeriggio a tutti, quest'oggi facciamo una breve chiacchierata per illustrarvi una foto che è stata premiata di recente a uno degli ultimi contest di Landscape Photography Magazine dal titolo Lonely Trees, una foto che sarà in mostra multimediale fino al giorno 14 agosto. Iniziamo dandovi il benvenuto, invitandovi innanzitutto a seguire e iscrivervi al canale Whatsapp i Fotolibri di Stefania Grasso perché questo canale vi terrà informati sulle mie attività fotografiche. Si parla sì di fotolibri, ma ci saranno anche delle brevi chiacchierate come questa per tenervi aggiornati sulle conferenze, su brevi reportage che riguardano sia siti naturalistici che luoghi di affascinante cultura. Andiamo subito a condividere la fotografia di cui si va a parlare quest'oggi, che è il lago di Poschiavo. Ecco, questa è la foto premiata e si tratta di un lago artificiale. Prima di proseguire sulla trattazione di questa immagine andiamo a vedere dapprima altri esempi di laghi artificiali. La cosa si intende per laghi artificiali? Si intende una sottivisione in laghi naturali, che sono comunque di sbarramento naturale, che sono dei laghi che si formano in seguito a una frana, ma anche laghi che si formano in seguito all'attività antropica, di sbarramento artificiale. L'attività antropica riguarda l'attività dell'uomo. Uno di questi laghi che andiamo a vedere quest'oggi riguarda la diga del Coilè, quella qui, che si trova a Plamezon sotto a Cervigno. Per arrivare qui dovete prendere, se non volete fare una camminata lunga in salita, dovete prendervi la cabinovia che va al primo tratto, la fermata di Plamezon, perché poi si prosegue verso il Plato Rosà, scendere qui, si fa una camminata di 15 minuti circa, consigliabile un bel cappello protettivo, che è il sole e la crepa solare, perché qui siamo in alto, il sole picchia di più e non ci sono zone d'ombra. Raramente si trovano delle zone d'ombra. Una volta arrivati qui c'è questa centrale idroelettrica che si può anche visitare, consigliato solo a chi non soffre di claustrofabia e già non potrà andarci. Andando sempre più giù verso questa centrale si possono anche trovare gli stambecchi a distanza ravvicinata, quindi si possono fare anche delle belle foto agli animali. Se invece vogliamo andare verso il Trentino, ci sono altri due laghi artificiali, quindi sbarramento artificiale, siamo a Monguelfo. Tenete conto che questa foto è stata scattata parecchi anni fa dal Pullman andando in giornata, lo so che direte che sono pazza, a San Candido e al lago di Bryce, tornando a casa poi a luna di notte. Allora questa dica qua si trova a Monguelfo, quindi al Bibio per la Valpusteria. Ve ne faccio vedere anche un'altra. che è questa, che si trova nei pressi di un bell'albergo che si chiama Zeof. Eccolo qui, particolarmente è colorato, consiglio anche di chi ha delle fotografie con questi colori, di fare anche una post-produzione in HDR perché viene molto bene. Questa fotografia del resto è già stata premiata alla CNN, in quella circostanza, nella sezione Io e Ipot per i viaggiatori. Questi sono esempi di laghi artificiali. Allora, ritorniamo sulla fotografia vincitrice, che è questa qui, e vi faccio vedere anche il contesto dell'immagine. Ci troviamo lungo la linea del Berlin Express, qui siamo nella zona di Poschiavo, Miralago, che dovrebbe essere la terza fermata di questa linea. Io ho già fatto tre volte questo percorso con l'Agenzia Stat Viaggi di Vercelli e mi piacerebbe anche provare a vedere se ce ne fosse uno in ottobre per cogliere la magia dell'autunno, dei colori autunnali e del foliage. Il trenino poi sale verso l'ospizio Bernina e in regala dei panorami lungo il lago bianco e il lago nero, mozzafiato anche durante il periodo invernale. Allora, ve ne faccio vedere qualcuno, questa è dal trenino, qui in tre curva, poi abbiamo quest'altra, che qui ci troviamo proprio nella zona attuale, quello che sarebbe il lago bianco, quindi nella zona dell'Alpgrun, a ospizio Bernina. Quindi qui siamo decisamente in quota con questi bellissimi panorami lungo il Bernina Express e il Piz Palù. Ecco qua. Adesso ritorniamo davvero sull'altra, per soffermarci un po' un po'. Su questa tempesta, su queste giornate che comunque ci hanno regalato delle visioni un po' originali del posto. Allora, se pensiamo anche a Vienele Vicinanzi, abbiamo anche una panchina rossa, che adesso cerco di farvi vedere, nella direzione di Le Prese. Allora, ce l'ho qua, schermo intero, me lo faccio solo vedere e poi ritorniamo veramente sull'altra. Allora, eccola qui. Qui siamo fatto nella zona della barbocchiavo, costruzione da lago. Allora, la foto è stata scattata presso questa stazione, qui siamo a quota mille metri. Questa qui è l'area Le Prese, si chiama, questa panchina rispecchia davvero la bellezza della solitudine al cospetto di madre natura. Voi mano a mano si sale, come vedete, avete visto tutte le foto di madre. Qual è la metafora un po' della vita, qui che ci insegna madre natura? Che anche in giornate non favorevoli, dal punto di vista meteorologico, bisogna saper cogliere i doni di madre natura, anche se è difficile, sia tecnicamente che magari anche psicologicamente. La pioggia, la tempesta, ci insegnano che nella vita non bisogna arrendersi mai, ma da natura sa sempre come allegrarci con i suoi doni e sarà sempre benevola nei confronti di chi la ama, chi la adora, chi la rispetta. Io mi auguro di condividere altri aspetti di questo paesaggio, poi quando ci saranno i carotenoidi, sempre che ci sia un viaggio disponibile per raccogliere questi meravigliosi cori autunnali. Vi invito ancora una volta a iscrivervi a questo canale WhatsApp, anche perché ho intenzione di creare una vera e propria sala virtuale, non solo con Meet, con il quale abbiamo un contratto ancora per un anno, poi passeremo a Zoom per motivi tecnici e di costo anche. In questo canale troverete sia gli aggiornamenti sull'attività fotografica, sia su alcuni brevi reportaggi, come ad esempio adesso dal 6 all'8 settembre esporrò ad Amsterdam una fotografia che si chiama Ve den Volk, che ritra una vetrata della catetale di Berna, che è molto bella, quindi anche questa è stata scelta per questa esposizione. Parteciperò con delle foto, spero di riuscire a farle domani alla Gruyère, anche a una mostra per una selezione di fotografi a New York, quindi ci saranno anche qui delle spiegazioni sui temi trattati. Chi ha difficoltà a iscriversi a questo canale può mandarmi un messaggio via mail o via Whatsapp e io approverò l'iscrizione con il link. Ripeto, il canale si chiama I Fotolibri di Stefano Grasso, sui Fotolibri ce ne sarà uno prossimamente, che riguarderà il giardino botanico Shanusia, alla Tuil, al piccolo San Bernardo, dove ci sarà non solo un corso di formazione di scienze naturali, ma ne approfitterò per creare un libro che poi verrà utilizzato, si spera venga venduto, a favore dell'ILT. Comunque vedremo la giornata, anche perché il maltempo è dietro l'angolo, quindi a volte le date non sono precise, per cui bisogna un po' vedere le previsioni e eventualmente rinviare, come è già successo a fine giugno, delle uccite proprio a causa del maltempo, dopo le previsioni sono piuttosto complicate ultimamente, però questo canale vi aiuterà a restare aggiornati. Quindi iscrivetevi e ci sentiamo presto per ulteriori aggiornamenti. Grazie a tutti e buona domenica. Grazie a tutti.